Ah porco Dio la Madonna di Cristo, speriamo che riesca a girare, ma certo che sì. Allora ragazzi, ciao, buongiorno, buona giornata, buon pomeriggio, quello che volete. Ah porco Dio il dente di merda. Ah porco Dio, Lucia vieni qua. Allora ragazzi, come vi avevo accennato nelle preparazioni che ho messo come foto, vi porto a Montone con me. Oggi inizia il festival, ah porco Dio la Madonna, no, guarda no. Il festival montonese, il sole e la luna, il tema, i colori, guardate. Allora, questo, Lucia vieni, questo è il sipario di entrata che poi faranno la parata i ragazzi. Lucia, Lucia è proprio scordinata, totale. E adesso vi faccio vedere che cosa abbiamo preparato ieri. Ah porco Dio la Madonna di Cristo, tata, scusate, ah porco Dio la Madonna di merda. Io stingo full, 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 porco Dio la Madonna di Cristo, full, full. Allora, porco Dio la Madonna, questo è il bar del paese che si chiama bar ventesimo secolo. Vediamo se il proprietario ci fa un saluto. Giuliano, Giuliano, questo è il bar del paese, questo è il proprietario. Ciao Giuliano, che ha contribuito, stasera sta acceso, invece di aperto, detto acceso. Ha contribuito anche a fare i fiori, sì, quelli veri. Ciao Giuliano, saluta YouTube, i fan, tutti quanti, gli amici. Marchetti e Bocodaus. Allora ragazzi, iniziamo con i fiori che abbiamo fatto per terra. Guardate, ah porco Dio la Madonna di merda. Che meraviglia, questo è un po' grosso, non si vede bene. Luce, vieni qua. Ah porco Dio la Madonna di merda. Questo è un altro fiore. Questo ragazzi è un altro fiore. Questo è un altro fiore, guardate quanto è bello questo. Questo è un bar aperto da poco. Ora facciamo dire perché ora mi sa sconnesso l'idea. Questo è Luigi, Riccardo. Ricca, bar. Ristorante, arrosticini, che soffa il video per YouTube. Carne alla brace, a Ottima, di ottima scelta e di ottima cottura. Poi che ci sta formaggio fritto e tutte le, come si chiama, gli sfizi del paese di una volta, del Terramano. Allora, questi sono i soli. Questo è il bar, si chiama la grotta. Ricca, come si chiama il bar? La grotta dei leoni. La grotta dei leoni. Loro stanno a preparare le panche per stasera. Questo è bellissimo, questo sole, guardate quanto è bello. Eccolo qua. Eccolo qua. Questo è il proprietario Danilo. Ciao. Ciao. Stiamo a fare un video per YouTube, per la Proloco Montone. Ho anche descritto il tuo locale. A mio modo. Grazie. E questo è sempre Riccardo e questo è sempre Luigi. Luigi, tutto fare. Luigi forever. Ma è bello il sorriso di Riccardo, guardate, inquadratore, primo piazzo. Allora, vabbè, luce, cammina. Disciplinata che non sei altro. Allora, andiamo per il paese, ragazzi. Immergiamoci. Questo l'ha fatto anche Luigi. Tutto il pezzo bianco l'ha fatto questo signore qua, che sta a caricare le panche. Questo è tutto fare per il paese. Il grande Luigi. Vai. Allora, mo' incominciamo da queste lucette. A porco di là, madonna. Da queste luci. Guardate che belle. Guardate che belle. Come abbiamo contornato il paese. Guardate che bel paese. A porco di là, wonderful. I capelli in merda. Guardate che belli. Gli ombrellini. Che se stasera piove, ci ripiamo. Allora, queste sono le lucette. Queste sono, no, queste. Queste sono le lucette. Questi ragazzi. Allora, a porco di house. Queste sono. Sono a scappare pure i piccioni con uno strillo. Questi sono dei pezzi unici fatti a mano, cucite dalle donne del paese. Fatti tutti i pezzettini diversi. Diversificati. E poi, vabbè. Scusatemi. E tengono. Scusate. A porco di ella, madonna. Perché mentre cammino, spiego. Io non so fare Piero Angelo. Vabbè, Piero Angelo non le faccio di cose. Comunque, vabbè. Andiamo avanti così. Allora, spero di fare bene. E di dire tutto. Vabbè, a modo mio. Questi sono pezzi di, a porco di ella, madonna di Cristo. Cotone di lana e cotone, fatte dalle signore e poi cucite e messe lì. Poi ci siamo, porco di house. Poi c'è il sole e la luna. Perché il tema è il sole e la luna. Allora, abbiamo fatto queste lune rivestite a mano. E con questi soli. Questi dovrebbero essere i cantanti. Sto facendo un video per YouTube. L'audio. L'audio. Se posso inquadrare, avete problemi di privacy, eccoli qua. Che so fare i video per YouTube. dubbio mi interesso del web. Allora, andiamo avanti. Questo è il paesello. Ello, ello, ello. Vi facciamo vedere altre decorazioni. Oddio. Aiuto. Mi sono sfiacate. Allora, prima andiamo di qua, poi riusciamo di qua. Ok. Ah, porco di ella, madonna di Cristo. Ah, Luce, che gioca. Ciao. Oh, ma voi siete la tedeschia. Ecco. Io sto facendo il video per far vedere tutto il bello che abbiamo fatto di Montau. Poi ci sentiamo dopo, ok? Eh? Tu non parli. Allora, chi è che ci traduce il tedesco adesso? Capri, ci capiamo a Jesse. Dopo. Dopo. Ok. Ok. In zatchmang l'inglese, quindi sto proprio messa male. Allora, qui ci sta, guardate ragazzi che bello, a porco di ella, madonna. Qua sopra ci sono queste sfere, che non so come si chiamano. Eleonora, mi dici come si chiamano? Genesa. Openza sfera. Genesa. Openza sfera. Openza sfera, vabbè. Allora, qui abbiamo fatto, ragazzi, delle decorazioni con tutte cose reciclate, che sarebbero le bottiglie. Perchè dire la madonna di merda, scusa. Le bottiglie le abbiamo tagliate, poi spressate, squagliate. Non si è fatto un macille. Abbiamo, porco di ella, madonna di crisi, abbiamo pitturate con le bombolette spray. Ciao. Abbiamo pitturato con le bombolette spray e poi le abbiamo attaccate nella rete e così venute. Guardate quanto sono belle. Poi, andiamo avanti. Ci sono, a porco di ella, madonna di merda. No, quella non c'è. Spero che ci assista e non fa tanto... Che, madonnina mia, non vuoi fare tanta pioggia. Allora, questo invece è il colore. Perché comunque il tema è il colore. Quindi delle latte con il... Il tè e i tè lì... A me luce mi fa innervosire. Con, come si chiamano questi? I tulle. Che fa il colore. Ragazzi, sono pessima come... Questo. Qua è dove abbiamo lavorato e elaborato tutto. Luce, esci da là? Allora, adesso ci inoltriamo per il paese. Proprio nel centro del centro... Centro del mondo, ragazzi. Però, a portodio, prima di fare questo vi voglio... Due secondi, voglio farvi conoscere una persona speciale. che è la nostra presidente della Proloco. Eleonora. Venghi, signore, venghi. Salve. Ma che mi dai la mano? Abbiamo lavorato... Abbiamo lavorato insieme. Lei è stata la promotrice di tutto. Delle idee, di tutto di ciò che abbiamo fatto, che vedete realizzato. Poi noi l'abbiamo sviluppato, come diceva lei. Oppure abbiamo preso... La collaborazione di tutti. La collaborazione di tutti. Abbiamo preso anche delle nostre iniziative. e a volte abbiamo fatto anche cose a modo nostro. Eh? Che... A modo nostro. A modo nostro, no. Vabbè, la realizzazione è stata tutta tua. Sono notte che... Lei è impegnatissima. Lei si chiama Eleonora Corona. E le vogliamo tanto, tanto bene. Allora, continuiamo. Ecco, vi dicevo, i soli e le lune, perché il tema è il sole e la luna, quindi i soli e le lune rivestite. Allora, poi andiamo. Andiamo qua sotto. Qua sotto ci sono sempre appesi i soli e le lune. Qua c'è la casa di mio figlio. Che Willy non c'è? Willy? Chi sta Willy? Ah, non c'è Willy. Se lo sono portati, va bene. Allora, queste sono le remicenze delle... Remicenze, che cazzo ditte? Proprio no. Vabbè, comunque vi faccio vedere. Questa è la casa di mio figlio. Vieni, Lucia, che dobbiamo far vedere tutto. Guardate che carini questi angioletti messi con le, come si chiamano, queste penne, pennacchi, no, angioletti, messe con le stelle. Ragazzi, shingfuse. Questa abbiamo fatto tutto noi, a mano, libera, cioè lavorando, lavorando veramente tanto. E la signora che vi ho fatto vedere prima è una grande, perché ci ha coordinato con una calmezza, noi l'abbiamo chiamata, al porco di la madonna, con una calmezza unica. Quindi ci ha coordinato, ci ha seguito, ci ha calmato, perché sotto il sole a fare tutte queste cose non è stato semplice, però è appagante. Poi abbiamo fatto... Luce! Ma posso stasemba chiamare luce? Qua è la legnaia e qui stasera questo tavolo verrà imbandito per presentare i miei libri. e vendere se qualcuno li vorrà. Luce, andiamo! Devo sempre chiamare luce. Allora, queste ragazze invece sono delle bamboline che abbiamo fatto a mano libera. Chiaro, a mano libera. Come si fa a mano? Abbiamo fatto queste bamboline stupende. Guardate, ora ve le vorrei far vedere uno proprio da vicino, però non ci riesco. Allora, queste sono le bamboline fatte di stoffa. Le abbiamo fatte belle, belle, belle. E queste poi, magari vi metto delle foto. e queste invece sono dei fiorellini attaccati con i vasetti di plasmon. Guardate qua. I vasetti di plasmon colorati a pennello e poi i fiori messi sopra. Luce, ma se ne hai... A me mi fa venire il nervoso questo cane, perché... Allora, poi andiamo a vedere oltre. Mi fa venire il nervoso, perché così non si fa. Allora, adesso... Ah, porco Dio, la Madonna di Cristo! Chi è queste belle scarpe? Riprendiamo anche le scarpe, perché no? Allora, qua è la piazza dove faranno la manifestazione che si svolgerà la prima serata o la seconda, non lo so, comunque, jazz. è una manifestazione di Taranta. Voi che cantate? Che cantano questi? Nessuno vi risponde? Va bene così? Mi fa niente. Le mende stanno talmente impegnati che gli artisti sono tutti un po'. Allora, qui invece abbiamo questa parte che è la parte del paesello a porco Dio, la Madonna di Cristo! Lucia, perché te ne vai dove non devi andare? Guardate che bello che abbiamo attaccato qui. Il sole e la luna pure qua. Poi, andiamo... Andiamo... Guardate il sole e la luna. Fatti a mano, ragazzi. Attaccati con tutte le pezze fatte a mano e poi ribattuti dietro con un'unica stoffa. guardate, guardate che bello. Cioè, mi voglio soffermare su queste cose perché sono state fatte veramente a mano con tanto sacrificio, con tanto sole, con tanto sudore, quindi mi ci impegno anche a descriverle. Allora, qua dovrebbero suonare, non so cosa. Che cosa suonate voi? Facciamo uno spettacolo di circo, teatro, con musicale. Ok. Dalle 10 alle 12. Un'ora dura e per tutti, per divertirsi. Andrete su YouTube perché questo è un video su YouTube. Penso che non è un problema. Eh? Eh? E sia. Ah, e sia? Ok. No, che tanta gente dice Dio no, Dio no, per YouTube. Anzi, è una bella vetrina. Allora, poi continuiamo. Andiamo, Luce? Continuiamo nel vicoletto che è più stretto, che è più stretto. Ah, porco Dio che me li dà. Facciamo vedere che ci sta qui. Che ci sta qui? Non ci sta niente. Ci sta qui, non ci sta niente. Allora, no, 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 qua ci sta. Guardate che bello. Ah, porco Dio, la Madonna di merda. Con l'ebano padrone del mio mondo intero il latrare ha tembato. vabbè, è lungo, però Cavalieri sette soli. Sono delle scritte, poi c'è sempre il sole e la luna, perché il tema principale è quello. E poi hanno messo tutte queste cose carine. Guardate che belle. E poi, ragazzi, ci sarà la parata dove arriveranno tanti ragazzi che faranno una bella manifestazione. e quella quella poi la farò anche come video. Cavalieri sottesoli. Ecco qua. Adesso torniamo nella parte principale, diciamo, ah, porco Dio, la madonna. Nel fulcro del paesello, qui la signora ha attaccato dei bel, dei bei fiorellini, guardate che carini, guardate che belli, guardate che belle queste case. Ah, ecco, porco Dio, la madonna. adesso ve le faccio vedere proprio da vicino queste bamboline realizzate a mano. Guardate che belle. Guardate, sono stupende. Guardate. Queste sono tutte case abitate. Lucia, andiamo? Allora, il giro, ragazzi, è finito, è fornute. Io mi auguro che sarà una bella festa perché l'impegno è stato grande da parte di tutti i montonesi, da parte dell'organizzazione Proloco. Ecco, quelli, ragazzi, sono stati tutti fasciati a mano. Ci ha rotto le mani. Se voi siete venuti con la pioggia. La luce te la ricordi. Sono arrivati. Quanto stai? 15 giorni? Due mesi? Due mesi? Qua. Allora, questi sono i fiori di una signora che è andata via. Ecco, io vi faccio vedere questo. E poi, queste sono le cose che si illumineranno stasera. Qua è tutto illuminato questa sera. Preghiamo solo a porco di la Madonna che non ci sia. Ragazzi, io vi dico una cosa, fate una pregherina stasera a porco di la Madonna di questo. Oddio il dente. Oddio il dente che non ci sia tanta, no, non ci sia per niente la pioggia, no, tanta, tanta o poca. La pioggia non ci deve essere perché dobbiamo fare questo festival che abbiamo veramente realizzato a porco di la Laus con tutto, con tutto l'impegno possibile, con l'amore per il nostro paesello dove abitiamo e quindi chi più di chi abita può dipingere e colorare l'anima di un paese, cioè noi abitanti. Un bacione grande, spero che questo video vi sia piaciuto e a rimanere di svegliere. Ciao!